Ramella, mentre proseguono le operazioni di sicurezza e di ripristino, si guarda al futuro con uno spirito però anche un po' di ottimismo, perché c'è tanta voglia di fare. Senz'altro, chiaramente in questo momento parlare di ottimismo è una parola forte, perché tutti quanti ci stiamo leccando le ferite, e sono ferite veramente grandi. Però chiaramente dobbiamo passare dal momento dello sconforto al momento di guardare il futuro. L'abbiamo detto più di una volta, dobbiamo ricreare quelle condizioni in cui un'economia, anche una microeconomia, possa vivere, possa rinassere, possano rinassere i bed and breakfast, i piccoli ristoranti, iniziative che anche magari erano appena sorte o che stavano per sorgere per un territorio molto bello a cui tutti quanti contavamo. Noi da poco, il Comune di Mendatica aveva anche aperto una centralina idroelettrica, in questo senso di politica energetica, che trova risorse sul territorio, e anche questa è andata distrutta. Di qua però dobbiamo partire per cercare di ricostruire, e anzi io direi proprio di prendere come sfida e utilizzare il metodo del Friuli, che da un disastro si guarda avanti e si cercano le occasioni per far rinassere una valle. Una valle è un territorio che è patrimonio di tutti e soltanto col presidio dell'uomo sul territorio si preserva da ulteriori catastrofi che si ripercuotono anche sulle città della costa.